A tutti buonasera dal TG Prato, il bilancio del 2013 della Guardia di Finanza di Prato, gli evasori che sono stati scoperti sono 30 in più rispetto a quelli scoperti nel 2012 e raddoppiano, pensate, le denunce per reati fiscali. Vi dice tutto Eleonora Barbieri. Nel 2013 la Guardia di Finanza di Prato ha scoperto 95 evasori, 30 in più del 2012. Di questi, 79 sono stati denunciati per reati di natura fiscale, il doppio dell'anno precedente. È uno dei dati più significativi del bilancio delle attività svolte dai finanziari pratesi nel corso del 2013. Gli accessi, le ispezioni e le verifiche eseguite sono stati 568 che hanno portato alle contestazioni di oltre 156 milioni di euro di imposte sui redditi e di 91 milioni e mezzo di euro di IVA evasi. Risultati che dipendono da una maggiore presenza sul territorio e da un potenziamento degli strumenti d'incrocio delle banche dati. Sì, è stato un anno di grande lavoro e grande impegno. La percentuale degli evasori che è stata riscontrata è senza dubbio in incremento e questo significa sicuramente un maggiore lavoro da parte nostra. È chiaro, noi riteniamo che la maggiore presenza ispettiva sul territorio abbia comportato questo risultato. Dal punto di vista dell'evasione globale sia ai fini delle imposte dirette che dal punto di vista dell'IVA e degli altri tributi i dati più o meno sono stabili, non presentano delle anomalie significative. In materia di evasione fiscale internazionale abbontano a 23 milioni e 600 mila euro le contestazioni per le imposte sui redditi, 166 le indagini su segnalazione di operazioni sospette che hanno portato alle contestazioni di 10 milioni di euro. Le pattuglie impiegate sul territorio 24 ore su 24 sono state 1205. Sul fronte controlli alle attività gestite da cinesi nel 2013 sono stati 35 e hanno riguardato 90 capannoni che ospitavano 118 società per un totale di 49 immobili sequestrati e 181 lavoratori nero identificati. I macchinari finiti sotto sigillo amministrativo sono 2544. Con un bicchiere rotto si scagliò contro il suo rivale, lo colpì alla gola recidendogli la vena giugolare. La vittima, 30 anni, morì dopo 48 ore di agonia. Per quell'omicidio oggi il GIP Silvia Isidori ha condannato a 16 anni di carcere Rashid El Khadiri, marocchino di 33 anni, riconoscendolo colpevole di omicidio volontario senza l'aggravante dell'ubriachezza, come chiesto dal pubblico ministero Eligio Paolini che aveva formulato una richiesta di 20 anni di reclusione. L'omicidio avvenne la sera del 1 maggio del 2013 fuori dal circolo di Via del Ferro a Cafaggio. Vedete le immagini. L'omicida decise di costituirsi ai carabinieri dando loro appuntamento nella zona di Parco Prato. I suoi legali, gli avvocati Costanza Malerba e Federico Febbo, hanno annunciato che faranno ricorso in appello chiedendo nuovamente di riformulare il capo d'accusa in omicidio preterintenzionale. Tre ore su un traliccio minacciando di buttarsi nel vuoto. È sceso dopo la consegna di soldi, protagonista un 54enne che già aveva messo in atto questo gesto in passato. Guardate. Per più di tre ore è rimasto su un traliccio dell'illuminazione del campo sportivo di Via Galcianese. Non ne ha voluto sapere di scendere e ha continuato a chiedere soldi minacciando di buttarsi nel vuoto. 54 anni, non nuovo a gesti di questo tipo, l'uomo da anni in cura al CERTA ha tenuto in scacco carabinieri, polizia municipale, vigili del fuoco e un paio di ambulanze. Una mobilitazione generale che, cominciata poco dopo le 11, si è conclusa alle 14.30, quando all'uomo sono stati consegnati dei soldi incontanti. La trattativa con il capo squadra dei vigili del fuoco, che dal cestello dell'autoscala ha tentato in tutti i modi di riportare il 54enne alla ragione, si è arenata sui soldi, che alla fine sono arrivati, come altre volte in passato. Qualche centinaio di euro messi in tasca dopo aver firmato una ricevuta e prima di essere portato all'ospedale per accertamenti. Non ho autorizzato la consegna di denaro, dice l'assessore comunale alle politiche sociali Dante Mondanelli, ho solo detto che potevamo prenderci l'impegno di un incontro urgente con i servizi sociali finalizzato al pagamento delle bollette. Non possiamo agire sotto ricatto, non è così che funziona, né possiamo dare soldi incontanti che poi è evidente dove vanno a finire. Difficile però per l'amministrazione comunale assumersi la responsabilità di fronte a una persona che minaccia il suicidio. Stiamo valutando se oltre al procurato allarme possono esserci altri estremi penali, spiega il comandante della Polizia Municipale Andrea Pasquinelli, mi riferisco all'estorsione. Questo individuo ha ricavato un profitto ingiusto e non è scritto da nessuna parte chi aveva e ha diritto a quei soldi, ma in casi come questo la pubblica amministrazione è costretta a intervenire e a gestire la situazione. Non so chi abbia anticipato il denaro, ma la consegna c'è stata con tanto di ricevuta firmata. Tempo addietro, l'uomo per diverse volte consecutive si era rappicato su una ciminiera per convincere amministratori e assistenti a dargli i soldi. Quattro mesi di reclusione è la condanna inflitta dal Tribunale di Torino a Rubina a fronte, la giovane antagonista figlia di un magistrato toscano in servizio fino a non molto tempo fa alla Procura di Prato. La giovane, l'8 settembre del 2010, lanciò un fumogeno contro il segretario della CISL, Raffaele Bonanni, colpendolo durante la festa nazionale del PD. La pena inflitta era la stessa proposta dal pubblico ministero. La giovane, che oggi ha 28 anni, è stata riconosciuta colpevole di tentate, lesioni, danneggiamento e getto pericoloso di cose. Maltempo, dissesti lungo tutto il reticolo idraulico, attivati alcuni interventi in regime di somma urgenza, ma l'allarme resta perché i vincoli del patto di stabilità impediscono gli indispensabili lavori strutturali. Eleonora Barbieri. I danni delle ultime quattro ondate di maltempo ammontano a 4 milioni di euro, che si aggiungono agli altri sei previsti per i lavori necessari dopo la piena del marzo 2013. Ma il patto di stabilità ha bloccato tutto, nonostante il finanziamento da parte della regione di 3 milioni di euro per Calice, Calicino e Bisenzio. L'unica possibilità sono i lavori di somma urgenza. Sono in corso sia per i gravi dissesti arginali dell'Ombrone che del Bisenzio e per le numerose frane che hanno interessato la Val di Bisenzio. Sono sul Bisenzio e sono sull'Ombrone. Sul Bisenzio abbiamo il Cavalciotto. Si è però anche un'erosione a gonfienti che dovremo recuperare. Quindi anche sul Bisenzio e a Valle questa volta. E poi abbiamo tutti gli interventi sull'area dell'Ombrone, nel tratto Ombrone-Collecchio, a Candeli, nella zona industriale, sull'Oiolo, abbiamo fatto interventi sul Ficarello. Quindi insomma abbiamo aperto e chiuso già alcuni cantieri. Ne abbiamo ancora 5 o 6 aperti in insomma urgenza che sono assolutamente indispensabili per non entrare in un regime di insicurezza quando si dovessero presentare altri eventi come quelli che si sono presentati negli ultimi due mesi. Lavori che permettono di mettere in sicurezza fiumi e versanti ma che devono essere accompagnati da interventi più ampi e strutturali come ad esempio il completamento delle nuove casse di espansione dell'Ombrone. Ma il problema resta sempre lo stesso, il patto di stabilità. È il momento invece di togliere dal patto di stabilità tutti gli interventi che vanno verso la tutela del territorio e il ripristino dei danni che si sono verificati negli ultimi eventi. Maltempo, dissesto idroologico. Spostiamoci ora in Val di Bisenzio con Claudio Vannacci. Non si ferma l'emergenza in Val di Bisenzio per il dissesto idrogeologico. Lo scorso weekend i vigili del fuoco del distaccamento di Vaiano hanno fatto due interventi. Sabato a Schignano per il sopralluogo di un movimento franoso che interessa la zona di Via del Pioppo dallo scorso anno. Fino ad oggi non è stato fatto niente per mettere in sicurezza la zona e a causa delle recenti e copiose piogge la situazione è ulteriormente peggiorata. Sul posto è intervenuto anche il tecnico di servizio dei vigili del fuoco. Ormai le famiglie a rischio sono sei, dicono preoccupati i residenti. In attesa di un intervento urgente da parte degli enti preposti non resta che sperare che la frana si fermi e che non si debba intervenire solo dopo il ferimento di persone. Domenica invece la squadra dei vigili del fuoco di Vaiano è intervenuta in località Ligliano, nuovamente isolata a causa di un imponente smottamento che bloccava la strada di accesso al borgo. I vigili hanno aiutato una residente a portare via dalla propria casa gli effetti personali. Intanto una buona notizia con la regione che ha stanziato mezzo milione di euro alla provincia di Prato per la manutenzione nel 2014 di 43 chilometri circa di strade regionali. Nella cifra sono anche compresi 120 mila euro per la rimozione di due sensi unici alternati sulla strada regionale 325 a Vernio istituiti dopo le frane delle scorse settimane. E parliamo ora di clown terapia la medicina più efficace si sa è il sorriso e così ci sono pratesi che nei giorni liberi si dedicano al volontariato, alla solidarietà si trasformano in clown per la gioia dei bambini ricoverati all'ospedale di Prato e per quelli che vanno a trovare il papà in carcere. Guardate. Vi posso presentare? Abbiamo Rosicchio abbiamo Melody abbiamo Ricciolo Ricciolotta e Intrusina Dispettosa. Ecco i clown che regalano svago e allegria ai piccoli pazienti del reparto pediatria dell'ospedale di Prato buffi, un po' goffi, divertenti, colorati capaci di magie e improvvisatori provetti i sei clown sono pratesi tutti con un lavoro dal barista all'addetto di un supermercato all'insegnante e la domenica con l'hobby del volontariato e della solidarietà. Siamo qui presenti in pediatria a Prato al nuovo ospedale di Prato sa 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 funziona meglio questo siamo volontari clown facciamo parte di una federazione si chiama VIP Italia siamo qui presenti sul territorio pratese da circa due anni e mezzo Due domeniche al mese fanno incursioni al Santo Stefano e si dividono tra pediatria, ostetricia e pronto soccorso dispensando a tutti una delle medicine in assoluto più efficaci il sorriso un'attività che richiede grande energia e soprattutto preparazione perché fare il clown e scegliere di farlo per chi soffre non è affatto facile e allora smessi i pani della domenica i sei si cimentano in due allenamenti al mese di clown terapia e si aggiornano con i corsi base che sono uguali per tutti i 3000 clown che in Italia sono riuniti dalla sigla VIP che sta per Viviamo in positivo il gruppo pratese è VIPO dove le ultime due lettere stanno per Prato l'immancabile naso rosso segno distintivo di ogni clown entra anche al carcere della Dogaia per accompagnare i bambini che vanno a far visita al papà e attraverso giochi e gag abbattere almeno con l'immaginazione le sbarre e le pesanti porte in ferro e anche qui i sorrisi si sprecano per grandi e piccini perché il clown per definizione non ha pregiudizi e quando c'è, c'è per tutti Era l'ultima notizia grazie e arrivederci dal Tg Prato